Anche se questo non ha incontrato il gusto del pubblico veneto Ho detto fatelo con le bollicine che qui spacca Parliamo delle seconde case per i profughi Perché come sanno tutti, l'ha detto Mirko del Radio Più C'è una guerra in atto Sti profughi noi li accogliamo Che sono profughi talmente bianchi che i vedi anche al buio Soltanto mi raccomando stiamo attenti che magari tra gli ucraini Se infilano anche i profughi dell'Italia Provano sempre a venire qua Che no, i loro cos... Che Minogo, intendiamoci, intendiamoci Minogo niente contro addirittura Ho letto su una rivista scientifica Che abbiamo in comune il 98% del patrimonio genetico Ridimi i numeri, 98 tombola